Allora, grande carattere, siete andate vicinissimo a un'impresa che nessuno ha fatto in questo campionato, andare a vincere in casa della prima in classifica. Sì, peccato, molto peccato perché comunque fare un 3-2 contro la prima in classifica è già tanta cosa, mancava poco però ce la siamo lasciata sfuggire, fa niente. Non è stata forse la più bella partita di quest'anno però avete dimostrato grandissimo carattere dopo quei due set centrali che erano andati un po' male. Sì, sicuramente, abbiamo fatto fatica ad ingranare un po', soprattutto i primi set e verso la fine è uscito il carattere finalmente, abbiamo fatto vedere quello che sappiamo fare. Tu personalmente sei contenta, sei entrata in campo nel momento più difficile, insomma hai avuto un grande impatto sulla partita. Personalmente sono molto contenta e da tanto che non entravo in campo in un momento decisivo, sono abbastanza soddisfatta, ovviamente potevo fare di più, soprattutto a muro ma fa niente.